Ciao a tutti! Oggi prepareremo il salmone alla menta con peperosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 35 minuti. Ingredienti sono un trancio di salmone fresco, acqua, zenzero, sale, succo di limone, peperosa, olio e menta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito mettendo l'acqua nel vassoio. Iniziamo subito mettendo l'acqua nel boccale. Ci servirà per la cottura a vapore e nell'acqua andiamo a mettere lo zenzero. Chiudiamo il cotoperto senza il misurino. Andiamo a posizionare il nostro varoma. Prendiamo il filetto del salmone e lo andiamo a posizionare. Dopo che andiamo a condirlo con un pizzico di sale. Un cucchiaino di peperosa. E un cucchiaino del nostro olio. Andiamo a chiudere con il coperchio del varoma e cuociamo per 20 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Il nostro salmone è pronto. Mettiamolo da parte e teniamolo in caldo. E andiamo a togliere il boccale e a sciacquarlo. Per voler lavare e asciugare il boccale mettiamo all'interno del boccale la nostra menta. Il resto del peperosa. e andiamo a privare il tutto per 10 secondi a velocità 7. Prendiamo il trigo sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Il limone. il succo del limone. Il succo del limone. L'olio. E il resto del sale. Andiamo ad aggiungere il tutto per 20 secondi a velocità 6. La nostra salsa è pronta. Andiamo ad impiattare. Salmone alla menta e peperosa. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.